Quando parlo di tecnologia non parlo proprio di hardware, software, ma di paradigmi, cioè l'information technology evolve su paradigmi che cambiano drasticamente, sai che dice ogni sette anni, ogni dieci, insomma, io sono abbastanza anziano ma ne ho rischi tre o quattro, in cui cambia completamente il frame of mind nel quale si pensano i sistemi. Allora, qualunque sistema complesso che richiede tanto tempo per essere messo in piedi deve tenere conto del fatto che, diciamo, si sviluppa in un contesto che è running, ma running in modo accelerato e sta accelerando sempre più perché oggi i componenti esistenti possono essere messi insieme per creare degli apparati nuovi. Voglio dire, un iPad N viene fuori in pochi mesi ormai perché i componenti, basta trovare un modo innovativo per metterli insieme. Quindi questo qua è un punto. Allora, che cosa può accadere nei prossimi anni? È abbastanza chiaro, anzi, diciamo, qualunque sia l'interpretazione del termine cloud. È del tutto evidente che siamo in un momento in cui l'intelligenza e i dati migrano da dei device di accesso che stanno qua, migrano verso la rete. Che poi, diciamo, questi grossi server vengono gestiti dalla Microsoft, dalla Apple, da Amazon, da una pubblica, diciamo, è elevante, però è un fatto che i device di accesso sostanzialmente si svuotano e tuttano verso la rete. Questo qua è inevitabile ed è la prima cosa. La seconda cosa è il fortissimo trend verso un accesso mobile. Anche questo non è in discussione. It happens, cioè capita, sta capitando, cioè non ci sono tutti. Quindi l'intelligenza e i dati vanno verso la, dalla rete. I device di accesso sono mobile. Questo qua è il contesto in cui bisogna cercare le soluzioni. E poi si tratta di capire. E tra l'altro, e mi sembra molto importante quello che è stato detto oggi, questo qua è un contesto che è di eccezionale interesse, sia per i paesi sviluppati che per i paesi in via di sviluppo. Perché abbiamo visto delle enfasi molto diverse nelle presentazioni. Però se ci pensate, il fatto di un mondo in cui l'intelligenza è accessibile da device a basso costo. Allora, credo che qualche mese fa i cinesi abbiano annunciato dei device di questo tipo, grossomodo, con 75 dollari di costo, e non 500. Quindi 75 dollari sono ancora tanti, ma i costi scendono. Quindi paesi via di sviluppo, chi fornisce i servizi cloud? Si è parlato di esperienze rurali attraverso gli imprenditori. Ma allora perché non possono essere le ONG? Le ONG che vanno adesso nei paesi in via di sviluppo semplicemente per portare e installare tecnologia, quando va bene. Poi se ne vanno e tutto croda. E incominciano a erogare, magari a partire da dei server che stanno in paesi più sviluppabili e che hanno una banda, a erogare dei servizi in piccolo. Quindi voglio dire, chi eroga servizi cloud possono essere entità molto differenti a seconda dei contesti. Allora, e qua chiudo. In questo contesto qua, qual è l'unico importante abilitatore per tutti, per noi, per il suo Sudafrica, eccetera, è la disponibilità di una banda larga mobile. Questo qua è il punto uno. Senza una banda larga mobile siamo fermi tutti. Siamo fermi tutti. Questo è il principale abilitatore. Non si tratta di... Io capisco l'enfasi sulla formazione. È importante. Però poi, diciamo, viene fuori Facebook e, bam, in qualche anno c'è quasi un miliardo di intenti. Nessuno ha fatto della formazione a questi intenti. Questo significa che quando si mette nelle mani della gente uno strumento che, diciamo, risolve delle esigenze, anche se embrionali o inespresse, questo strumento si auto-innesca da solo. E quindi, insomma, banda larga. Perché nessuno qua ha parlato di banda larga. Questo qua è il primo punto. è il primo punto.